Buongiorno all'informazione di oggi, giovedì 9 ottobre 2014. I problemi dell'aeroporto dello Stretto. Il presidente della provincia, Raffa, ha incontrato ieri i vertici dei SOGAS e dei sindacati. Consapevolezza per la gravità della situazione e condivisione della strategia tesa a salvare la SOGAS, dunque l'aeroporto dello Stretto. È stato questo lo spirito che ha caratterizzato il lungo ed articolato incontro, durato quasi sei ore, tra il presidente della provincia, Giuseppe Raffa, i rappresentanti del consiglio di amministrazione della società di gestione dello scalo aereo cittadino e i rappresentanti dei sindacati. Il confronto ha consentito di approfondire le difficoltà del momento e le priorità da affrontare nell'immediato per impedire allo scalo ulteriori problemi che metterebbero in forza il diritto alla mobilità aerea dei reggini e dell'utenza della sponda siciliana dell'area dello Stretto. L'aspetto paradossale della vicenda è che la SOGAS si trova in una situazione finanziaria a rischio, nonostante sia creditrice di quasi 11 milioni di Euro nei confronti dei soci che compongono la società per azioni. I partecipanti alla riunione, voluta appunto dal presidente Raffa, hanno valutato una serie di iniziative da assumersi nell'immediato e comunque prima della prossima assemblea dei soci. I particolari della discussione hanno riguardato le imitazioni che non consentono la completa agibilità dello scalo, la concessione trentennale, la situazione debitoria dei soci, l'esternalizzazione dei servizi, l'handeling, il costo del personale ed altri argomenti direttamente collegati all'aeroporto Reggino. Le sigle sindacali sono state d'accordo con Raffa e con i vertici della SOGAS sulla necessità e sull'urgenza allo stesso tempo di intervenire con correttivi rispetto alla situazione organizzativa e funzionale della società di gestione in un quadro di sostenibilità aziendale. In questo ovviamente rientra anche la spesa per il personale. I sindacati che hanno dimostrato grande senso di responsabilità hanno anche annunciato che avvieranno un'iniziativa autonoma con l'ENAC chiedendo sia l'eliminazione dei vincoli aeroportuali sia una decisione non più rinviabile sulla concessione trentennale. Ai sindacati infatti risultano incomprensibili i ritardi relative a queste due decisioni in considerazione del fatto che sono state eseguite tutte le prescrizioni a suo tempo richieste dall'ENAC. Ho molto apprezzato, ha detto il Presidente Raffa al termine dell'incontro, il senso di responsabilità di tutte le organizzazioni sindacali presenti e la loro condivisione rispetto alle strategie da assumere sulle problematiche legate al nostro aeroporto. Sono anche soddisfatto per la creazione con i sindacati, pur nel rispetto di ruoli e competenze di un fronte comune che si prefigge la difesa del diritto della mobilità dei nostri concittadini. Da oggi, ha concluso Raffa, come socio di maggioranza SOGAS, la provincia si sente più motivata nel proseguire questa battaglia tesa ad impedire un ulteriore isolamento del nostro territorio rispetto ad altre aree geografiche del Paese. Convocata dal Prefetto Claudio San Martino, si è svolta nel pomeriggio di ieri la riunione per la definizione del protocollo di intesa per disciplinare la propaganda elettorale in occasione delle elezioni comunali di Reggio Calabria domenica 26 ottobre, al fine di assicurare il regolare svolgimento della campagna elettorale. All'incontro hanno partecipato i rappresentanti delle forze di polizia, del comune capoluogo e dei partiti e movimenti politici impegnati nella consultazione che registra 9 candidati sindaci e 32 liste. Le parti politiche presenti alla riunione hanno sottoscritto il protocollo di intesa contenente norme generali di autoregolamentazione nel più ampio rispetto della libertà e della normativa in materia di propaganda elettorale, impegnandosi al rispetto dello stesso. È stato regolamentato tra l'altro lo svolgimento dei comizi elettorali che si potranno tenere in Piazza Camagna e Piazza Duomo, l'uso della propaganda figurativa o luminosa a carattere fisso o mobile e quella a mezzo manifesti. Con l'occasione è stato anche ribadito il divieto del lancio, del getto di volantini e di ogni forma di propaganda del giorno della votazione nel raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali, nonché il divieto nei 15 giorni antecedenti la data delle elezioni e fino alla chiusura delle operazioni di voto di rendere pubblici o diffondere i risultati dei sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se effettuati anteriormente alla data di decorrenza del divieto anzidento. La commissione scientifica istituita dal ministro dei beni culturali Dario Franceschini per verificare la responsabilità dei bronzi di Riace ha espresso parere negativo. La risposta è molto chiara e chiude il dibattito, ha commentato il ministro, aggiungendo il lavoro per noi adesso sarà quello di rafforzare tutte le iniziative già in essere affinché i visitatori di Expo allunghino la loro permanenza in Italia. per vedere la bellezza che tutto il nostro paese offre, a cominciare dal Museo archeologico di Reggio Calabria. Ho detto, appena ricevuta la richiesta ufficiale dal Presidente della Regione Lombardia, di avere i bronzi a Milano per Expo, che prima di una qualsiasi decisione politica sul merito occorreva avere un parere scientifico sulla possibile trasportabilità. E ora la risposta è arrivata molto chiara e quindi chiude il dibattito, ha sottolineato ancora il ministro Franceschini. Il Comune di Medito Portosalvo, su disposizione della Commissione straordinaria, ha emesso un doppio avviso pubblico alla ricerca di nuove imprese e professionisti da impiegare all'interno della struttura. Il responsabile dell'area tecnica del Comune ha emesso il doppio relativo avviso pubblico, che tra l'altro fissa i termini di scadenza per la presentazione dell'apposita domanda al 31 ottobre 2014. Un'apposita commissione sulla scorta delle domande pervenute e della documentazione presentata dai candidati valuterà, sulla base di criteri ben precisi, gli ammissibili ai lavori inferiori ai 100 mila Euro. E veniamo allo sport, la regina prosegue l'avvicinamento alla gara di Matera. Prosegue la preparazione, in casa Amaranto non sono disponibili per impegni con la nazionale dall'Oglio Camigliari e Sicu, fermi per infortunio Crescenzi e Di Michele. Armellino sta lavorando ancora a parte. Un test amichevole con la squadra Berretti per la consueta valutazione generale che il tecnico inizia a fare da metà settimana, ovviamente non potendo contare su tutti gli effettivi. Matera è trasferta impegnativa contro una squadra che gioca un buon calcio, allenata tra l'altro da Gaetana Auteri, più volte ha costato in passato la panchina Amaranto. Cozza ha invitato tutti a mettere da parte la vittoria ottenuta nel derby contro il Cosenza e in terra lucana sarà tutta altra storia. Vietate saranno quindi le distrazioni. Il ritorno a successo contro i cugini rosso-blu ha dato morale e carica alla squadra e diventa a questo punto necessario dare continuità alla classifica in modo da scalarla in maniera seria. E con questa notizia si conclude l'edizione di oggi, giovedì 9 di ottobre 2014, l'informazione con telemerito è rimandata domani alle ore 14. Buon pomeriggio. Grazie.